moffa come si vi scuoglio i video ti piaciuto sofia? non so c'è la cosa che dice no ovviamente non lo conoscevo dai devi farglielo si 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 devo fare devo fare ho trovato come citare comunque hai provato a citare? ho trovato come citare zaino infinito zaino infinito? ma non si fa ma dove l'hai letta sta roba? beh beh testa mia testa mia in che senso testa tu? l'ho inventato io ah hai inventato tu? non so se ti ricordi che sono un genio no possibilmente eh ogni tanto ogni tanto eh te lo ricordo io eh ricordate sono un genio sto caricando vediamo un po' come è veloce mi fermava nel sangue li ho dati a un passante ma perchè cammino lentissimo? è venuta le palle pesate apri partita regione online ok la partita connessione a janita che cazzo di qua la connessione è pronta aspetta devo fare le berries cosa c'era? devi entrare e far trova partita esattina ah lo farà già allora cinque pezzi non ho dove metterla questa equipaggia le le nerd trova partita nome? monza monza sì con la n grande e mi sarebbe buttata roba no 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 secondo me non ti interessa come si cita? no no vabbè dimmi come si cita dimmi cosa hai scoperto ma è una cazzata torno nel mio mondo easy ah in che senso non ti parlava Lime cos'era? eh sì cioè torni e cosa fai? prendo tutto mi carico tutto torno nel mio mondo sono davanti a forziere nel mio mondo troppo nel forziere eh no troppo alta di cazzo magari proprio in certe situazioni dove ne abbiamo bisogno eh per fare un po' di soldi nel cazzo butto però cioè ho troppo peso quindi butto le frecce dammi la mia dammi tutto poso a terra tu puoi cosa ci vuoi fare con le berry? le berry? cioè dici mega berry? sì intanto hai buttato il guscio intanto sei un coglione perchè c'hai di fianco il venditore primo eh mica lo vende sta roba e cosa ti fa? che ne so cioè c'è cusci ah fa cose la pelle le frecce le butti così? no le butto per dentro te c'hai le tue venditure aaaaa aspetta che ma insomma insomma hai detto una cattura comunque dicevo ah cosa stavo dicendo? mangio questa roba ti ripeto ti ripeto in pietà d'elemana cosa ci faccio con le berry? ah beh la confettura e cibo e come si fa? metti 4 berry e fa la confettura ah allora posso farlo anche qua mi sembra che puoi fare un giro sì sì puoi fare un giro creazione libera ma anche confettura ecco però perchè ti sei ragionato? come a capo perchè sta scadendo le berry no non lo fai fare come no? una cucina o che la zia mi dico? me l'ho sbagliato devi usare una postazione di cucina vado su fattone uuuh che bagone c'è anche io buttati di sotto vedi cosa succede ah devi stare una postazione di cucina niente cazzo sì sì no non ci siamo qua no mi buto giù fidati dov'è? dov'è? aspetta ok è fatto vediamo quanto scade ah mica si refulla perfetto eh se ah no perchè c'è la cucina giù vero sì per quello mi sono buttato aspetta arrivo cioè proviamo a bagare il gioco vediamo buttati mi sono buttato hai visto? ha fatto una scivolata ho scivolato cucina berri crea una confettura due confetture comunque io tornerei indietro che dici? no sì sì indietro cioè tornerei indietro diciamo sì tornerei alla penisola no che c'è tutta una roba spero io direi portiamo sul boss e poi portiamolo qua ma qual'l boss? qua perché altro io non ho aspetta questa mi sta scadendo ah intendi mostri proprio ce n'era uno gigante un gigante? c'era uno blu un coso blu sì blu eccolo lì tiri una fraccione e corriamo non so se funziona sì magari viene un po' più su ecco sta già venendo da solo dai fatto via via arriva vediamo se oh ma è proprio un drago cazzo vai 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 un dinosauro salve portiamo dalla minchione magari eh non penso facciamo qualcosa eh magari lui si è tanto che ci sei con l'infinito e invece lo fissano eh ok eh si combatte dobbiamo fare eh andiamo con uno spazio un po' più ampio magari madonna ma è una bestia quanti attacchi ha fatto no io ho fatto niente fa vedere no io ho fatto niente no fa proprio le combo forse davanti però attento che sono di shot ok oh mi ha colpito metà vita ha fatto un colpo ok del danno lo facciamo tu scappa tu scappa tu difendi cazzo ma visto oh oh eh l'avete bruttina è una bella botta mi ha dato ok aspetta droppo la borsa e facciamo via dai stronti tira magari magia ah è vero ah è vero eh aspetta proviamo eh erano più noi il cerchio però non fa un cazzo no non fa un cazzo di mettermi il cerchio a terra nella scintilla che cazzo fa nulla non c'ho abbiamo il cerchio mi sembra cioè non c'ho la roba per il cerchio ok uff eh vabbè dai pure dietro prende è un'esplosione quella ma prendi la spada in mano coglio sta roba che non prendi la spada in mano a certe volte un fastidio un colpa alla volta no franco oh mi ha preso la dietro ha fatto cazzata si ha fatto cazzata io ehm aspetta pensavo mi mettersi subito che lì hai preso dai ho tolto lo zaino aspetta facciamo così allora tienilo tienilo fa morire eh tienilo il cazzo basta mettere qua facciamo così ah attacca proprio ah sulla spada lo mette provo aspetta ho fatto un cazzo di danno ma questo si gira subito cioè istantaneo no sono morto anch'io ah merda e ora si torna al pulso è a casa mi sa che si torna ah però ho lasciato lo zaino a terra io per combattere anch'io vabbè altro qua dobbiamo tornarci dove ci porta è un dolore assurdo svegliarti all'unimagine sono ancora dimorare le sceme afferterla a fondo ti trovi una camera a centrare sulla montagna ok dai siamo qui grande ah meno male pensavo che dovessimo dormire anche quegli zaini qua anche quegli zaini qua però di chi era zaino eh fai apri apri non penso nemmeno questo no nel mio oppure mi ha perso la roba c'è un arpione e dov'è il mio scusami aspetta andiamo a vedere fuori penso sia tu questo eh dimmi cosa c'è dentro ehm non c'è la roba da scintilla se avessi è bugato il mio zaino ah si perchè questo vedi bene sulla terra te lo lascio qua no si è mio questo ah si il mio era lì ma tu ce l'avevi addosso o l'avevi buttata no no guarda l'ha spawnato vicino a me mai si è spawnato vicino al letto per vedere eh dietro la casa tipo cioè dietro la casa al letto ma no c'è dell'ino eh no raccoli tutto non c'è più niente cazzo eh pesante questa che c'è una roba importantissima quello zaino c'è c'è proprio lo zaino in sé eh 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 dai cazzata vediamo che dice l'internatone ah è qua è qua è qua dove? stai su su c'è c'è un fattone eh io non lo so ti ricordo neanche dove lascia il zaino no ma cosa me l'ha fatto spawnare frate e l'ho buttato lì cioè c'è un po' combattere più di nuovo si ritenta? eh si ritenta mi sai si non abbiamo un cazzo però non abbiamo schi non abbiamo niente quello eh io della maggia ce l'ha però mi serve un qualcosa per azionarla che non mi mi ricordo che è una carta però ecco perché non ho straccio di fuoco lo straccio di fuoco me ne pensavo fosse di fuoco e ce l'ho io straccio di fuoco si passa un po' ma è per ma serve per infondere l'arma è tipo la la pietra di dark souls eh ma c'era qualcosa che serve per fare la pietra no non è quella cos'era? andiamo consuma pietra del fuoco ma sembra una pietra del fuoco eh questo è la pietra dove cazzo la prendo la pietra del fuoco quindi? se vuoi ho pietra della del mana no cazzo di fuoco vabbè per ora non possiamo usare magia e non lo so continuiamo magari a esplorare o è troppo difficile? no no penso sia solo quello del boss no pensi che sia un boss? cioè ma è c'era dell'altro una caverna era solo sta direzione no no più che altro è effattiva è solo che infatti deve essere calmi e non farci confio no no togliamo troppo poco non abbiamo sì ma non penso dovremmo già essere qua diciamo ma sì solo che non abbiamo armi vuoi fare prima questo o quella prima prima? spera lo attiro? ah ho già visto ok ah ha già ah vabbè pensavo non volessi rifarlo no vabbè te sei tu? attento che sta arrivando c'è il fuoco all'arma cazzo eh per fuoco che sono così lento sta cazzo di zai via ok oh guarda lui non guarda a me ok prima che io avevo fitto stantaneo si gira e ti fa manzi proprio ecco e prima che io prima avevo finito la la stamina per cui non potevamo più parare attenzione si gira attaccano alla volta un attacco alla volta io ne hai fatti quattro un pazzo un pazzo porca troia sono morto sei girato perché di tutto si no ma la botta la botta si lo so ma bu niente fai il giro no fai il giro fatti inseguire fatti inseguire fai il giro il corri corri fai tutto il giro e tirami su la stanza non si ricarica mica facile vai è bravo così passa attraverso le cose tu vai 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 corri 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 adesso corri dritto non ti fermare si è buono è la stamina passa vicino alle rocce così così esatto vai 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 che ce la facciamo la spada di fuoco proprio non ti si si è rimasta attaccata vai vai ce la fai ok scappa vabbè sta andando adesso cazzo quanto è lento oh combina complicato oh mi ha colpiso ma che cazzo è vabbè no no si può fare ma stiamo qui a perdere la salute mentale eh più che altro ha perso il fuoco per quello vabbè sta com'è com'è non ti vedo più io ok sta abbastanza dietro vicino alla cucina ora che c'è una cucina che cazzo sai non ti vedo più ecco ti vaffanculo vai stai bene sta andando lentissimo mi sa la persona anche l'algo vai prendiamo lo zain andiamoci no dai proviamo si ok ma si ormai quanta vita c'ha tanto poi ci si dovremmo qua e si recupera dai dai cogli arco vado proprio un po' l'archino non hai arco semplice nell'inventario merda ce l'ho nella zain provo con le frecce vedo anche altrimenti si mi fa prendere la rotina mi fa prendere la rotina non mi fa prendere la rotina non mi fa prendere la rotina non mi fa prendere la rotina aspetta aspetta mentre minchia hai rischiato la vita e mira un po' lui dai oh no cos'è sta camera mi ha lasciato ha fatto un giro attorno a lui camera sbagliatissima boh ha fatto un cazzo di danno però l'ho capito eh guarda c'avevo la freccia conficcata nel corno foti foto è tu e vabbè dai ero lontanissimo no 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 dai no dai era lontanissimo no rianima sto strozzo no va il giro ah ok 10 di vita io ne ho uno oh ma dico tu 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 sbagliato no no ah ma cazzo vabbè fai il giro eh sparami sto cazzo voglio eh sì infatti che non ho sperato via via stai bloccato stai incliccato no dai se lo chiediamo magari ci trova qualcosa un cazzo un cazzo di niente un bel corno o sei bloccato sei stancato muo correre torno indietro ok ci siamo ci siamo problema che cioè non abbiamo armi cazzo avessimo anche un'arma a due mani potremmo fare qualcosa poi l'arma oh bella sta gittata non l'ha colpita ok non lo capisco l'arco bene cioè ma sparalo col tab col lock eh col lock stai facendo è stanissimo ok l'ha schivata c'è madonna oh eh ha preso ma come cazzo ha fatto stavo correndo no schivatone ho fame cazzo ah merda vabbè sì ma non ci abbiamo dato cibo ma mi rompe la roba come funziona cioè muoio so probabil eh la spada staccia mi attende il mio dove è? eh no stai molto dietro criccatissima ci faccio mangiare ok si 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 che cazzo fai cucini eh c'è la nella della del cosa è un zonio qua terra qua 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 dove cazzo è lui? oh ah ecco lì si agita per le cucine sai cosa potevo andare a prendere le bombe ooooh aspetta ho forse un'idea si no ci sono altri qua dobbiamo fare le trappole eh non so nemmeno come si fa eh non so nemmeno come si fa eh arrivo dobbiamo giocarcela meglio anche qua con le spade ecco ma non ho attaccato nemmeno non ho attaccato esatto quando si gira perchè lo colpisco non mi sta aggrando quindi non non lo attaccare cioè tu rimani sempre distante ci ho preso proprio la manata così a casa cazzo vai cioè se uscissi forse nel mio nel mio nella mia cesta ho qualcosa per combattere si va bene sti cazzo ma si sta refullando frate lentamente eh niente dai lo lasciamo vedi no 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 attaccarlo oh non capisci eh eh no ho capito il cazzo che strategia è il cazzo che strategia è sta mirando solo te ma se io lo attacco e si gira tu non devi attaccarlo perchè c'è ancora te ma non credo non mi sembra si te lo giuro non mi sembra così sensato si te lo giuro è così inizia a aggrare a me quando lo colpisco un bel po' di volte a me dà la sensazione che si gira subito senza avere regole di aggro cioè nel senso non si gira per vedere per guardare chi l'ha colpito tra virgolette eh si può provare ma non credo permissivo vediamo più alto se non c'è nessuno che aggra eh sì ecco vedi vedi che non mi attacca ok vedi non mi attacca lui si gira come se fosse a schivata si vedi non mi attacca non mi attacca ma secondo me in combo si gira cioè tipo si sta facendo una combo si 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 e sta continuando con le sue te si si quello si infatti lo sta nel tempo un casino ah io continuo sembra si sta lasciando la bomba oh no no non volevo era stronti ok eh eh attento vabbè dai dai era chiaro dai ah l'ho preso eh eccolo era chiaro dai dove mi farà spawnare il mio bel zaino chi lo sa no no troppo forte ma noi siamo scarsi è troppo forte sì di questa cosa cioè significa che è uguale nei giochi è troppo forte siamo noi scarsi eh oh no perché non è forte cioè non è un non è un calamus non è difficile sì sì ma non è dark soul sto gioco mi sembra però sì è troppo forte per gli standard che abbiamo noi ora di forza non è difficile che tecniche che ha un kung fu comunque io non ti avevo detto di attaccarlo di nuovo eh non so perché tu sei andato a crearlo io intendevo di andare nel dungeon nel dungeon? quale dungeon? nei dungeon prima ah quindi c'è tornare sul... non mi ricordo come era prima ufff che cazzo sia merda no aspetta perchè? ah abbiamo i zaini però abbiamo anche il... no ma siamo messi malissimo però c'è? hai guardato le statistiche confuso che cazzo no va via aspetta mangio che altro è il cibo? bevo no scarto alimentare in che senso? ah hai cucinato? io ho altre piatti aspetta no mi è andata male ma non hai cibo proprio? no no mi è andata male però ce l'ho ok oddio no ma in realtà effettivamente l'ultima gel e poi è finita cioè intanto io ce l'ho proprio cucinato c'è quello di piatto ti poso un piatto a terra continuo ad avere fame comunque si anche a me aspetta un nuovo anche ok sto a posto lo dovevi bere che sta? che sta? non andrò ancora no sono un... 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 un po' ha testa? vabbè rientriamo e vediamo un po' riposiamo cinque i... letti e... ok minchia ho dovuto mangiare il mondo per star meglio infatti siamo un po' fotturi ora che non abbiamo davvero cibo è tipo la nausea la mattina quel cerchio credo che è scomparso e ricomparso che ho mangiato troppo come se non dovevi morire mannaggia a te non fuggire l'hai lanciato proprio nelle sue braccia l'hai lanciato ma ci sono tutti i mostri da capo voi? no 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 se ci sono... non lo so ci sono le corpi aspetta ah no sono vivi? no sono qua che sono vivi sono corpi un po' vivi però è qua prova a parlarsi dice la stessa cosa ma ci aiuto? dice che ci aiuta però... no non c'è nessuno oh non c'è nessuno eh magari sono disponati... borsa primitiva chiude qua ma puoi mettere nello zaino qui subito no? prendi prendi lo accoglio lo accoglio eh no non posso prenderlo ah no si per esempio vieni vieni che è una da convergenza si dorme si mangia le ultime le azioni si vince ma aspetta esplora si sono rinnovati rinnovati loot? prendi tutte le armi a terra anche che le vendiamo poi prendiamo il tesorino il tesorino è sempre... vai arco lo prendo lo vendo prendi tutto prendi tutto no sono pieno non riesco sta niente tanto era vicino tridente eh no mi riesco più a muovere anch'io sei molto debole cazzo di non andare c'è questa elettricità? devo leggerla dai esistenza agli impatti è una 25 restato fame la sua da massima si deve tre volte più rapidamente recuperi 0-13 ehm protezione del freddo ehm però sta elettricità cos'è? eh sono i maus però non lo dice ciò non lo chiudiamo ciò non dice cosa? sono quei maus che lo chiudiamo? non lo dice quindi questa era la prima porta si nella quale non siamo entrati io non ho luce e di qua c'è un loro si va a dormire andiamo nella porta maggio o no cosa è lì davanti è stato tutto ma curiosi più veloce di me frate si sta inseguendo con un pazzo c'è la mente più veloce di me dov'è? ce l'ho io non so come faremo esattamente devi togliere l'aggro e tu continua già a correre ti dico io quando sei bloccato passa in mezzo alle rocce è dovuto abbastanza in forma lui sento che si è messo male vai 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 si sei proprio lento però tu cazzo aspetta che vengono aiutati togo zainetto amassi no e poi come lo ripidi lo metto qui ci vado a cucinare niente non mi caglia proprio aspetta che ho deve essere più saetta così vai via vai via tu vai via non farti aggrave ecco un po' si è perso ok e non fermarti davanti ai letti però eh si è fermato davanti ai letti vabbè allora intanto qua vendiamo le cose tu dai un occhio mentre vengono si perché tanto non possiamo vendere attenzione lui eh sei stato tornando indietro tranquilli si si beh dovrebbe tornare oh sta salendo ha girato proprio in versione a U fra sta salendo sta salendo ma se usciamo da qua non uscire rimani di vedi un po' se non ti vede magari vai tu a cucciati comunque non lo vedo ok sta salendo molto entanto cazzo non c'è un sacco a piedi frate sta arrivando c'è lui davanti all'entrata no sono accucciato si siamo visto hai sete che due coglioni va beh qua si trova eh vabbè sta proprio venendo da me sta proprio dentro cazzo no si si proprio reale eh sta cosa a fare in culo ormai che son veloce tu dove sei? sto vicino ai letti vedo se ci addormentiamo se non ci mangia nel sonno non credo tu lo vedi no sono ah si lo vedo è qui giù si si veloce 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 devo venire a dormire si 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 sta venendo verso le cucine però molto lentamente ma qua non possiamo dormire comunque si abbiamo due letti qua giù già abbiamo dormito una volta eh no non ti puoi dormire ma abbiamo fatto frate qui? no hai tu la borsa qua per terra? si si ma forse perché c'è lui no no anche prima non si poteva ma che dice ti giuro no vabbè è uno solo come è uno solo? tu ce l'hai? ce l'ho io ecco qua uso sa cappella improvvisata e ah for cazzo se ok sonno faccio 6 ore è riparazione 2 conferma guardia guardia di chi ha? ah no 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 ci sono loro in modo beh oddio c'è un mostro incazzato nero però no pensiamo un po' morto continuare ah io sono ancora un po' ferito però io ho fame io sono abbastanza posto sono un po' di vita ma ho fame eh no io ho fame e ho sete nooo sono un coglione ok ho mangiato il cibo marcio ma sono malato fuck ho sbagliato un po' non volevo finire vedi ora le razioni non le utilizzo mi dispiace non le utilizzerò mai mi dispiace e hanno aumentato neanche la fame poi tra l'altro e vabbè vabbè perché cazzo non lo pia vabbè non togli la fame ma non ti piglio malattia ok vabbè 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 può farti il malattia può farti vomitare quando mangi annullando l'effetto del cibo voto io no cos'altro posso rendere nulla non ti voglio vendere niente perfetto vabbè andiamo indietro e andiamo su all'altra porta stiamo abbastanza messi bene dove sei? qui vai tu c'è tutto? si si anche una freccia conficcata nei piedi cos'è una torcia oh va che è lì corri 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 dove? ostia via volendo possiamo scendere adesso vero andiamo andiamo e ma se ce ne sono altri eh invece ce ne andiamo nella porta senza problemi premiti velocemente invece di fare come ultima volta e oh so caduto anche io acqua potabile cazzo subito che c'è fare? che c'è? c'è sto finendo l'acqua potabile ma c'era la fontana gigante di prima scendere ma quella è lì la in le mani no è acqua uguale io ho bevuto quella oh acqua incredibile seme di albero preso piccone che non prenderò fammi luce frate frate non ti vedo sono d'altra parte ma non c'è un cazzo si va non c'è d'ora che sei andato tu oh è sceso frate ho visto come è caduto no mannaggia saliamo eh si è qui frate quasi di sala da qua dietro mi sala si da qua dietro fatto vabbè andiamo su eccolo qua ma quanta vita ha perso? eh la caduta anzi no tu agralo ok che faccio? e raccolgo io no ma ho già preso un tesoro ma anche nella cesta? nella cesta ho preso cioè l'unico c'era c'era un arco ho preso l'arco ho preso dei semi e poi c'era un piccone ho lasciato il piccone ma c'era altro anche a terra in giro eh no non ho visto questo non mi sembra ma c'era di uscito ma vedi qua no si era questo sentirei per l'altro si ce n'è un altro sentirei eroico l'altro lato però vediamo che cazzo c'è spazio ah si è vero che c'è un'altra entrata prendiamo l'altra allora sono veramente altre entrate cioè magari la montagna alta ha più entrate no? e tutte come vogliono qui fraaa capisco capisco intendo si 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 mi sa proprio si era una stessa qualità no io lo skipperai no vabbè si prova cazzo e il caricamento è lungo no non lo so peggiore sentirei le gambe posizionamento giocatori in attesa che altri giocatori arrivi ecco vedi che sei un fattone oh è pieno di mostri niente frate frate online che cazzo stai facendo ahia mi ha colpito si vabbè continua a girare no frate che proprio non è il caso ma corriamo via si cioè aspetta aspetta attraverso ah è chiuso è però di qua c'è una strada di qua ci sono scale di qua c'è roba incredibile hai preso tutto? hai preso tutto che senza hai preso tutto non vedo niente io no frate c'è un esercito qua però si va si va come in spazi strani su delle scale no vabbè qua c'è un castello qui dentro che cazzo guarda c'è vuoi passare attraverso io non nemmeno luce oh mi stanno insegnando tutti mi stanno insegnando tutti questo cosa fa non cazzo ok via ah qua si ha stavate ce la diamo dietro eh mi sa che lo prendo oh non so come non so come non so cazzo 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 oh mi hai bloccato cazzo cazzo in due zigzag certo no ma che ti hai fermato ma no anche tu che fai zigzag mi fotti la stava da me oh accetta oh no 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 sono morto niente devi venire a prendere una stanza buia sulla strada ancora canta con me shrek impaziente di stare sulla strada ancora sai che ce l'ha fatto ora no io sto esplorando ma come esplorando ma tu le è dietro e faccio schivarle eh da solo si in due no eri da solo no ma era da solo c'avevo dietro oh ci sai ci sai sono qua qua dove eccoci attento dietro attento dietro ok ci sono eh tranquillo sono morto io via incredibile via via proprio via si di qua oh shh ti ho ne ma quanti cazzo ce ne sono sono un po' perso mi sa che qua a destra ma chi cazzo sono questi macchini brutto l'agbandono eh non so provo ad andare via eeeh ti vedo ah stai venendo le sceme queste sono le scuole cazzo è difficilissimo niente zigzag che almeno abbiamo capito che non si fa eh non ci puoi stare come si ferma a prendere la roba fatone dai dietro perché non ti ha tirato su non lo so eh che ti muore cioè non puoi muoverti un po' ho fatto no ok c'ha anche il capo qua ah ce l'hai fatta e mi ha ucciso di nuovo eh va bene mentre ti alzi ti uccide casino è scarso è tirato abbandono che devo fa eh provo l'ultima volta no se ti ho sciottato cioè ah mi ha sciottato perché stavo ci attaccando devi dire animare senza è marito unita per nulla eh poi non penso puoi andarti senza di me non so come funziona ma si cazzo sei mo eccoci cuori 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 ostia quasi ok ci sono via via però sei andata in direzione sbagliata ah facendo il giro per aspettarti ok sono dietro dietro di me c'è un nemico ovviamente di solito ok stanno verso la partora no frate ce l'ho trovato c'è cazzo no ma stanno stanno girando in todo nello stesso nostro posto per andare verso la porta ma non è lì eh si che è lì no no provo a vedere no non è qualcosa ok l'ho trovato l'ho trovato merda mi ha colpito sei morto si è quasi ok ma merda sei morto no però devo aspettarti per forza infatti ah ti vedo ti vedo ci sono frate vai 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 oh vabbè ha colpito sono ancora vivo però non so perché entra entriamo entriamo bellissima 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 sperando che non ci colpiscono mentre fa il caricamento fuga lo sputo di vita no mamma mia devo inventare un po' di roba comunque buono cos'è qua un'altra la barda da vendere guarda quel minchione lì davanti scherzo forse posso ok dove va è là davanti sembra che sono affamato sono non c'è un pasino adesso ah è proprio ah così ovviamente muoio cioè muoio da solo probabilmente eh niente ci sono attaccate fantastico un po' di previdenza che previdenza figha sei sempre morto in sto gioco di merda come va la sua storia e insomma dobbiamo tornare in città a curarci e mangiare andrà a pescare guarda si andrà a pescare cioè uscire da qui dobbiamo fare un po' di cibo mentre di che puoi non morire per favore non ci provo ma dormiamo qua o eh sì eh però io sono senza cibo cioè sono affamato eh se vuoi uscire così in sto stato eh boh eh non lo so troviamo un lupo c'è per la cura aspetta fammi da guardare con un po' di roba aspetta 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 piacerebbe usare una delle nostre pote per tornare alla superficie allora perché c'ho c'ho un botto un botto di roba c'ho vuoi vedere eh sì però vedete se è buona da prendere da tenere ma senza il sale non si fa un calzo cioè ma proprio niente siamo un po' fottuti che non mi fa vendere alcune cose ho quattro ho quattro bende quattro bende ho 62 monete ma è un po' sembra che un calzo come calzo si fa mettere andiamo andiamo mi vendo l'orco aspetta si arrivo andiamo a farci bozzo verso penisola adesso penisola luna no in realtà non è che ho pigliato chissà cosa ho portato una ascia pugnale improvvisata no in realtà tutta merda e vabbè e un po' per pozione però andrò a mangiare e vabbè usciamo e vado a farci boh in giro magari se tanto mi interrasporto da te tu vuoi iniziare ad andare in città ah magari se esce dal server così posso entrare e uscire dai voi eh esce dal server così posso entrare e uscire dai voi che si deve andare in città non è la nostra eee si che è la nostra no che fa vabbè poi quella navi più che l'altra stessa vabbè ma il resto gioco online vai va dopo arrivo ci vedo poco c'è pam 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 vabbè Grazie a tutti 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 Abbiamo Probabile Grazie a tutti 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 Dove vi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo che Grazie a tutti Tu Grazie a tutti Grazie a tutti No 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 Grazie a tutti 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 Oh mi si è No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Senti Grazie a tutti 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 No Non so perché Come si è No No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon Grazie a tutti Oh No No Do No No Allora Però No Ok Oh No No Una sola No 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 No